Dio è la suprema intelligenza universale e la scintilla di luce che ha messo in noi ci ha permesso di costruire tutto quello che abbiamo intorno, palazzi giganteschi, tecnologia inimmaginabile fino a poco tempo fa e ora che crediamo di essere diventati grandi, lo offendiamo come se fossimo noi i padri eterni.